Contro il Paceco è arrivata una sconfitta di misura per 0-1 dopo le prime due vittorie nelle prime due giornate di campionato. Che gara è stata? Il mister ha parlato di una gara fondamentalmente sfortunata. Sì, è stata una partita difficile. Abbiamo trovato degli avversari bravi a giocare palla. Ci hanno, come posso dire, sorpresi. Hanno giocato bene la palla, ci hanno messo in difficoltà e poi dal nostro errore è nato il gol che ci ha dato la sconfitta. In settimana avete perso due compagni che si sono infortunati, in particolare Mazzamuto, che è il vostro capitano, anche l'attaccante Ferrante. Come ha reagito il gruppo a queste due assenze? Sì, sono state le grandi assenze anche perché sono due giocatori fondamentali, perché Mazzamuto giustisce palla a centrocampo e Cristiano cerca di metterle dentro. Abbiamo cercato di giocare al meglio, però siamo stati sfortunati. La prossima gara sarete contro il Borgo Nuovo. Il mister mi ha parlato che il loro è un fortino, il campo interrà battuta, quindi per voi un'ulteriore difficoltà oltre alla forza dell'avversario. Sì, sarà una partita difficile. Gli avversari sono bravi, rognosi. È un campo difficile, però impregnandoci durante la settimana cercheremo di portare i tre punti a casa. Grazie. Grazie. Grazie.